Il cadavere di Roberto Sciarra, il corpo recuperato nella tarda serata ieri dalla guardia costiera a seguito della segnalazione di un diportista che ha avvistato una salma galleggiante a largo di Montesilvano a circa un miglia e mezzo dalla foce del fiume Saline. Alcuni particolari dell'abbigliamento hanno fatto da subito pensare che il cadavere in avanzato stato di decomposizione fosse quello del 42enne istruttore di fitness, figlio dell'ex docente universitario Ezio Sciarra, scomparso un mese fa la mattina di Pasqua dalla villetta di famiglia di Pineto dove era arrivato per passare le festività pasquali assieme ai genitori. Il corpo recuperato ieri sera è stato a disposizione dell'autorità giudiziaria all'interno dell'obitorio dell'ospedale di Pescara e dagli accertamenti medico-legali è arrivata l'ufficialità del riconoscimento. Dopo la denuncia di scomparsa dei genitori l'unica traccia a disposizione dei carabinieri era stato un fermo immagine di una telecamera di videosorveglianza che lo ritraeva con due borsoni in mano, immagini ritratti a poche centinaia di metri dall'abitazione dei genitori che mostravano Sciarra camminare da solo nella notte in tuta da ginnastica con passo svelto e tra le mani due grossi borsoni nei quali forse erano stati messi dei pesi da ginnastica.